Ciao, proprio ieri ero fuori e mi si è avvicinato un ragazzo che vendeva braccialetti. Avete presente quei venditori ambulanti che si trovano in giro? Qui ce ne sono parecchi. E questo ragazzo, gli abbiamo detto che non eravamo interessati ad acquistare i suoi braccialetti, comunque l'abbiamo guardato negli occhi e si è messo a parlare con noi. Quindi, quello che ti voglio dire con questo video è quante volte le persone che magari ti si avvicinano, ti chiedono qualcosa, che magari ti avvicinano anche per cose che non ti interessano, che magari ti possono anche arrivare a disturbare, a togliere tempo. Quante volte tu ti ricordi della persona, dell'essere umano che c'è dietro questa richiesta? Quante volte tu ti ricordi della persona che stai incontrando? Perché ricordati che dietro questo venditore, questa persona che si rapporta con te, c'è sempre un essere umano che ha dei sogni, ha delle speranze, ha delle esigenze, ha dei bisogni, ha delle paure, ha delle emozioni. E ricordati soprattutto che quando noi incontriamo qualcuno, incontriamo anche noi stessi. In quella persona c'è una parte di te. Ricordatene e cerca di essere, a prescindere dal fatto che tu possa essere interessato o meno a quello che ti viene proposto, gentile di aprire il tuo cuore, di dare magari uno sguardo amorevole. Perché ricordati che tu ti comporti con gli altri come in realtà ti stai comportando con te stesso. Quindi, se tu sarai indifferente è perché in realtà sei un pochino indifferente nei confronti di te stesso. Se tu sei amorevole con questa persona è perché in realtà tu stai... Sei amorevole nei confronti di te stesso. Se sarai arrogante, scorbutico è perché in realtà hai questo atteggiamento anche nei confronti di te stesso. Quindi porta attenzione, porta attenzione agli altri, al mondo che ti circonda, perché ricordati che è sempre e solo il tuo specchio. Ti mando un abbraccio di luce e ricordati che se non sei ancora nel gruppo Facebook Divine Connection, entraci subito per fare tutto il lavoro che stiamo facendo insieme. E se nel caso tu fossi tra le persone che non è ancora riuscito ad amarsi, così avrai la strada spianata. E il tuo cammino sarà molto molto più semplice. Un abbraccio di luce e a presto. Ciao!